Ciao amici di Italia Talk Games, buongiorno, martedì 7 novembre, dopo una pausa di una settimana, perché la settimana scorsa arrivarono molte breaking news e tante cose, torno all'appuntamento con Italia Talk Games, risponde, ci sono varie domande a cui tenterò di dare la mia opinione, la mia risposta, prima però vi volevo notificare che Konami, grazie a Francesco Leggendo88 che me l'ha segnalato ieri, è stato raggiunto il primo obiettivo dell'Eumeter, 50 milioni di gol raggiunti e ci sono 50.000 GP in regalo, il prossimo obiettivo è 100 milioni di gol segnato da Messi in qualsiasi modalità, continuiamo a segnare gol e puntiamo a tenere ancora più premi, i premi se ce ne saranno altri nel corso del mese e verranno distribuiti a fine novembre, vi ricordo qui la catena di premi che una volta che si completa il secondo non è che il primo si esclude, questo era mai andata, ecco 50.000 GP, il prossimo 30.000 punti ESP, il prossimo 50 monete di football, il prossimo ancora 3 aggiuntabilità, quello dopo 100.000 GP, 50.000 punti ESP, 150 monete di football e aggiuntabilità per 5 con 800 milioni di gol, ricordo che la scadenza è l'11 gennaio, se dopo solo 5 giorni e sono stati già segnati 50 milioni di gol, facendo un rapido conto 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, a metà dicembre dovremmo aver completato tutti gli obiettivi, magari ci vorrà un po' di più, ma secondo me entro l'11 gennaio assolutamente avremo tutti i premi previsti da questo Leomitar. Come qualcuno giustamente scriveva, ma non c'è un modo per visualizzarli, no, purtroppo no, come sempre Konami non lo fa e invece sarebbe una cosa carina in cui uno si sente anche un pochino più coinvolto, perché ti danno solo il raggiungimento dell'obiettivo, se invece vedi 49 milioni e il counter che gira, è un modo diciamo di creare interesse per l'evento, ma così non è, magari nel 2035 Konami introdurrà anche questo tipo di cose che secondo me sarebbero invece importanti da un punto di vista della comunicazione, elemento su cui Konami, comunque sappiamo bene, non va proprio per la maggiore. Allora, pronta la domanda per martedì prossimo, ripeto, salvo breaking news, come è successo la settimana scorsa, e veniamo alle vostre domande che avete fatto fino a qualche giorno fa. Cominciamo con Giacomo. Ciao Fabrizio, secondo me più che nuovi eventi sarebbe per me bello poter fare eventi in Coop. Secondo te è possibile che in futuro metteranno queste possibilità? Possibile è possibile, dipende solo da Konami e da nessun altro. Quanto meno il matchmaking come era prima per le Coop è un punteggio, sarebbe più bello la divisione in Coop, ma andrebbe bene anche un punteggio come prima. A me piacciono gli eventi, penso è quello che ci sono, basta, mi piacerebbe di più una modalità nuova a questo punto, ripeto, magari anche da fare in Coop, oppure anche una bella master da fare online, quella di libertà di scegliere se giocare in Coop o no. E caro Giacomo, tutte belle idee le tue, il matchmaking assolutamente, gli eventi in Coop, io dico anche gli eventi con squadre reali. Esempio, questa sera, così vi do l'appuntamento, non riprendo il campionato, faccio l'altro evento, quello del campionato italiano, e ho giocato un Napoli-Inter sui Generis, avevamo tutti e due le AVO e altre cose particolari. Ecco, magari degli eventi anche con squadre reali, non è che sarebbe poi malaccio, magari solo anche le squadre partner, come Sony Experience Offline, potrebbe essere un modo carino. Sicuramente eventi in Coop, sicuramente il matchmaking, purtroppo però più che sperare io e te assieme e dirlo pubblicamente a Konami, che non si sa, ci vede, non ci vede, io lo sapete, ho contatti con l'ufficio stampa italiano, ma che è un'entità esterna a Konami, e so che vedono, magari non tutti, ma seguono il canale, ogni tanto mi chiedono anche dei feedback sulle novità, eccetera, eccetera, e come dire, più di questo non possiamo fare. Il nostro consueto Matt, eccolo qui, buongiorno Fabrizio, spero di essere ancora in tempo, sì lo eri anche perché abbiamo rinviato l'appuntamento, volevo chiederti se ci sono i rumors riguardo il mondo mobile e il supporto nativo al controller. Dalla cancellazione della roadmap non si è saputo nulla, sembrava che la controparte FC l'avrebbe introdotto e l'allancio, e invece nulla. Grazie, mi dai questa notizia che io non sapevo, pensavo che invece ci fosse. Sembra quasi che le due aziende si marchino a vicenda. Tu cosa ne pensi? Grazie mille, come sempre, spero che tu si invidi di guarigione. Sì, ancora dopo due settimane, ancora sto molto meglio, per carità. Due o tre giorni non riuscivo a respirare proprio, adesso sto benissimo rispetto a due settimane fa, ma questi virus parainfluenzali ad andarsene del tutto ci mettono. Matt, allora, questa cosa che tu dici io non la ignorerei, anzi la considererei molto che le due aziende si marchino a vicenda, almeno sotto certi aspetti, e quindi aspetta che una l'introduce per... Insomma, è interessante, perché se su PC e console il dominio incontrastato di FC è fuori discussione, su mobile le cose vanno in maniera molto differente. Quindi il fatto che si marchino non è, secondo me, da escludere del tutto come ipotesi, tutt'altro. Riguardo tutto il resto, siamo nella totale mancanza di informazioni, un silenzio assordante da mesi, le roadmap cancellate, lo abbiamo visto, è rimasto solo un rimasuglio di master nella facca ufficiale del gioco, ma per il resto di master, di editor, di matchmaking, di MyLeague, di tutto, del crossplay, del supporto al... Ho detto delle cose che erano state confermate ufficialmente da Konami, editor, crossplay, master. Altre cose invece no, le ho fatto un attimo un calderone. Comunque in questo momento noi non abbiamo alcun tipo di informazione su niente. È incredibile, è incredibile, non smetterò mai di dire che la comunicazione Konami pecca in modo mostruoso, io lo dico proprio in modo mostruoso, perché c'è qualcuno che difende e dice non hanno nessun obbligo, ma per carità ci mancherebbe, non dico che abbiano nessun obbligo se non nel confronto degli azionisti, però c'è una consuetudine di come si comportano le altre software house che comunicano, chi più chi meno, alcune anche troppo, ma Konami sicuramente troppo poco, siamo nel mare magnum dell'incertezza, non sappiamo nulla del controller, della master league, dell'editor, del crossplay, non sappiamo nulla. Cosa cambierà? Non lo so, abbiamo visto che qualche cosina nel tempo viene aggiunto, con tempi lentissimi, sul supporto del controller mobile, in questo momento purtroppo non c'è nessuna informazione come non c'è per nessun'altra cosa di football. Diciamolo chiaramente, è una situazione devastante anche per chi fa contenuti, perché con anticipazioni, preview, iniziare a parlarne e descrivere le cose che saranno inserite, sicuramente si creano contenuti più interessanti e si crea più interesse, magari non tanto nella community di utenti già iscritti al canale, che seguono, eccetera, ma magari fra nuovi utenti. Con i Football 2024, con l'uscita del gioco, c'è stata un'impennata, un picco, di nuovi iscritti, di views, eccetera. Konami invece ci mantiene così, ci mantiene con il lunedì l'aggiornamentino piuttosto limitato, e il giovedì invece ogni tanto fa qualcosa di interessante, ma sempre all'interno del Dream Team. David Ignio, che ha lasciato questa domanda ieri, Ciao, commento post-aggiornamento e lunedì 6 novembre, in alternativa è giunto al pool di 150, perché non ripresentare i pool squadra o derby? Era composto da solo 8 giocatori e c'erano spesso i giocatori interessanti, anche con overal base di 97, li ho girati spesso in passato, peccato che nei Football 2024 li abbiano tolti, inoltre non pubblichano più gli avvisi con gli eventi in arrivo. Che ne pensi? E David Ignio, che sono assolutamente d'accordo con te, magari tornassi il pool squadra e anche i pool derby, e tutti quei pool con numeri più adeguati. Io, tipo domenica, ho girato il POTV per Alland, erano 11 giocatori, 4 giri, avevo poco più di un terzo di possibilità, poco meno di la metà delle possibilità e ci ho provato. Non le ho trovato, ma non succede niente. Sono 300 monete che ho, tra virgolette, sprecato, perché comunque ho preso qualche giocatore, un giocatore, se ne è ancora da provare, l'ho provato ieri, ma avete visto in una maniera un pochino sui generis. Quindi, sono assolutamente d'accordo con te, e secondo la mia opinione, chi già scioppa i 150 continuerà a scioppare i pool da 150 per le leggende. Chi come me o te, che magari non scioppano quei pool così grandi, scusate, avere dei pool squadra, i pool derby, farli tornare, o altri tipi di pool da 10-20 giocatori, porterebbe, secondo me, molte più persone a utilizzare monete. Però, non dipende né da me, né da te, caro Davidigno, purtroppo. Diego, ciao Fabrizio, io ti volevo chiedere qualcosa su di te, che indirizzo di studio di seguito, una volta finite le superiori, ti sono tornati utili gli studi che hai fatto, hai capito che era una strada giusta e ti sei dedicato ad altro. Per la cronaca, mi si chiede, ho fatto il liceo scientifico, dopo ho fatto scienze della comunicazione e indirizzo di impresa. è un campo che non è come il campo medico o il campo dell'ingegnere in cui devi avere il patentino. Qui, cioè, se vuoi puoi diventare giornalista professionista. Io sono stato invece sempre un libero professionista nell'ambito, sono assolutamente contento di quello che ho fatto. Gli studi mi sono serviti parzialmente, per dirla molto breve, ci sono stati dei docenti così bravi che mi hanno dato degli strumenti per comprendere i mass media e per cercare di esprimere al meglio, a parole, con testi o magari con la voce, quello che uno cerca di voler comunicare. Ci sono stati dei professori cani che non mi hanno insegnato nulla e che non mi servono a niente nel mio lavoro. Quindi io sono contentissimo degli studi che ho fatti perché un 60-70% dei corsi che ho fatto sono stati interessantissimi e una metà riguardano pure proprio quello di cui mi occupo da una venticinquina d'anni oramai. Mamma mia, come passa il tempo. Quindi ho avuto varie collaborazioni in passato con Multiplayer, con Every Eye, con il gruppo Rizzoli Corriere della Siera, con la WWE, insomma ho fatto tante cose, le continuo a fare, adesso lavoro per alcune aziende multinazionali nel settore della tecnologia. Io sono contentissimo degli studi che ho fatto e della strada lavorativa. Ho avuto momenti difficili, ho avuto momenti esaltanti, come penso un po' tutti, ci sono sali e scendi nella vita, ma io sono molto contento di quello che ho fatto e continuo così. Il canale YouTube è una delle tante cose che faccio, non è che sto tutto il giorno a occuparmi del canale YouTube, ci dedico tanto tempo. Non è la cosa più remunerativa, ma devo dire che mi diverte molto di più di altri lavori, quindi ci dedico un pochino più di tempo al di là delle fatturazioni. Perché? Perché sono appassionato di videogiochi, non solo di football, purtroppo è chiaro che quello che viene espresso in questo canale è che io sia appassionato di football perché ne parlo tanto, ma ne parlo tanto perché c'è una community interessata. Ogni tanto propongo altri giochi, Spider-Man 2 e tanti altri, le views sono un decimo di quelle di e-football, ovviamente mi piace il football, propongo i football e come tale vado. gioco anche tanti altri giochi offline, per così dire, offline non nel senso sia offline in effetti, ma fuori dalle registrazioni che faccio, però sono assolutamente contento. tra l'altro la mia tesi di laurea si chiamava, si fa presto a dire game over, era ovviamente sul tema dei videogiochi, e oramai c'è più di vent'anni, quella laurea, tante previsioni che ho fatto sull'utilizzo dei videogiochi si sono anche avverate, tante altre no, ma come dire, sono stato contento di aver fatto quella tesi, ho avuto anche varie collaborazioni di giornalisti, di musicisti, di tante altre persone che hanno detto la loro sul tema dei videogiochi all'interno proprio della mia laurea. Va bene, Diego, spero di averti risposto tutto. Mr. Giuseppe, ciao Fabrizio, sul sito ufficiale per riscattare i punti football c'è una sezione usa punti coupon. Cosa sono questi coupon? Grazie un saluto. Grazie per questa domanda Giuseppe, perché mi viene, muoio da ridere, ogni tanto Konami rilancia i punti football, il rinnovo dei punti football, il rinnovo del sito dei punti football, e questi coupon non escono. In teoria Giuseppe, anche leggendo i disclaimer, le legal lines di questi punti football, dovrebbero essere dei coupon per prendere dei prodotti reali, cioè palloni, sharp e cose varie. Io non so se in Giappone questo già succede, qui in Europa non si è vista mai una ceppola di prodotto da prendere con questi coupon. In teoria doveva essere questo, però ad oggi, ad oggi non si è visto assolutamente nulla. Quindi caro Giuseppe, staremo a vedere se prima o poi questi coupon per prendere, non so, magari anche prodotti digitali come un buono per il PlayStation Store, questa era l'idea, comunque di regali con un valore economico, sostanzialmente, non solo il rinnovo contratti o dei giocatori. Così doveva essere, ma così ad oggi, caro Mr. Giuseppe, non è stato. Christian De Paolo, ciao, volevo parlare della Master che secondo me non arriverà, almeno per un po' di tempo, perché anche se la facessero a pagamento, poi l'anno dopo come la gestirebbero, beh, come hanno gestito sempre tutti i giochi, compri la Master per un anno come un gioco e poi l'anno dopo la devi ricomprare. La Master, uno può giocarci anche per tre anni con lo stesso gioco e per loro non frutterebbe. Poi fai conto che un gioco che non è neanche finito, questi guadagnano al minimo un milione di euro la settimana, basta i 10.000, le persone spendono 100 euro, il milione è in tasca, chi glielo fa fare e mette le cose che non fruttano il Dream Team, poi manca il match day come i vecchi pass e ti facevi la squadra al completo sempre con le fricce verdi, ci manca sempre tanto, non c'è ancora la progetti in Dream Team e fanno come il minimo più di 50 milioni l'anno, spero che qualche competizione in più venga messa. Sì, cioè, è come dire, la teoria che fai tu da un punto di vista economico, alcuni non la sposano, io la sposano, io sono d'accordo con te che è soprattutto un discorso economico, però, c'è un però, io penso che chi gioca PvP e gioca Dream Team non è che si metta a giocare alla Master o comunque sarebbe un di più. Io e tanti come me giocavano a My Club in PES e non giocavano alla Master e non giocavano ad altro. Altri non giocano ora a Dream Team e giocavano alla Master League, cioè, sono pubblici diversi, per carità, una parte si combacia pure, ma buona parte di chi gioca alla Master non gioca al Dream Team e viceversa. Io credo che Konami si introducesse la Master League, farebbe altri soldi, introiti, ripeto, poi, non per tre anni, la fai, che devi giocare, che devi essere comunque connesso, secondo me questo accadrà sicuramente, o comunque, un gioco come tanti altri che ha un termine, che non può continuare, e dopo un anno devi rinnovare il contratto, come succede per le licenze di tanti prodotti. Dopo un anno la Master, vuoi continuare a giocare, la devi ricomprare, come esattamente, come i giochi che escono, cioè, esce i Sport FC24, escono giochi, escono giochi che hanno un tempo. Io penso che non è un problema tecnico, è un problema economico, è un problema di voler, di pensare che è meglio spremere al massimo la parte del Dream Team, io non credo, non credo che sia così, credo che invece l'introduzione nella Master League o di altre modalità porterebbe maggiori introide a Konami, però, caro Cristian, io non sono Konami, tu non sei Konami e dobbiamo sperare ed aspettare che succeda qualcosa. Ciao, per caso sia, Toto1556, ciao, per caso si hanno notizie e rumor sui football per quanto riguarda il crossplay, grazie, scusate, ma altrimenti sto seguendo poco. Caro Toto, no, non c'è nessuna novità sul crossplay, come non c'è novità sull'editor, come non c'è novità sulla Master League, come non c'è novità su niente, molto semplicemente. Il carissimo Pierpaolo Daga, ciao Fabri, la carriera della cantora che stai facendo mi piace molto continuare a farla, sono entrato in stand-by anche perché a breve, siccome, anzi ve lo dico, questo è il primo video che faccio con il nuovo PC, devo ancora prenderci mano, finalmente ho una macchina molto performante, a breve, come riesco a sistemare tutto, devo recuperare 200.000 account, eccetera, vado con la carriera di Football Manager 2024, proverò Football Manager e proverò a fare meglio di Garzia, vediamo se ci riesco, vediamo, quindi prendo il Napoli, ho preso tante squadre su Football Manager 2024, voglio provare a fare meglio di Garzia, vediamo se ci riesco. Enzo Ena, buongiorno Fabrizio, sarebbe una delle idee per chi come me ne ha zero giocare su questo gioco all'alba dei tempi, il primo si chiamava East Pro Evolution su PS1, in realtà c'era qualcosa anche su Super Nintendo, ancora prima, ma non importa, quasi 25 anni fa, se Konami proponga come leggendo come epiche delle carte mitici Castolo, Miranda, Bolat, Ximenez, oppure fare un pool da pescata, cosa ne penso? Penso che sarebbe una idea fantastica e mi auguro che Konami come sta riprendendo Silent Hill, come sta riprendendo Metal Gear con la collection, eccetera, eccetera, riprenda anche la storia epica leggendaria di PES e non dico di tornare a PES perché io credo al 99% che non accadrà mai e poi il nome conta fino a un certo punto, ma conta il lignaggio, conta l'eredità e allora pensare a questi giocatori leggendari secondo me sarebbe una di quelle cose con cui fai contente tante, 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 tante persone, quindi assolutamente mi auguro che ciò accada Enzo, posso solo dirti questo. Qui Gigi rispondo prima, ciao Fabri di Editor non se ne parla mai però intendo Konami e caro Gigi qui non si parla di niente, questo è il guaio, non è che non si parla solo di Editor, non si parla di niente se non del leometer, dei nuovi pool, di tutto quello che vediamo, cioè di nuove modalità, di nuovi contenuti che non siano appunto carte, booster, eccetera, eccetera, non si parla di niente. Ciao Fabrizio, volevo chiederti, io gioco i football su cellulare un bel po' di tempo, adesso ho cambiato cellulare, volevo portare tutti i progressi di gioco sul mio nuovo cellulare ma non riesco a farlo, spero lei, dammi del tu, sono vecchio ma dentro sono sempre giovane perché non vorrei cominciare tutto all'inizio, grazie e buona giornata, allora caro Anto faccio il tuo, l'appello anche mio, io ho avuto il cellulare che mi si è autodistrutto e c'era i football, non riesco a trasportare nel gioco neanche il Konamid perché mi dice che è legato a quell'altro, quindi io sono in una situazione molto simile alla tua, ci dovrebbe essere un modo, tu parli di tutto il gioco, ci dovrebbe essere un passaggio dati, ora prova a vedere se c'è un link e ti rispondo con un link, se intanto c'è qualcuno all'ascolto, magari David Ignio che sul mobile è il messia sulla terra o qualcun altro che sa come fare perché io sul mobile sapete, mi ci taglio abbastanza, non sono un grandissimo esperto, quindi se qualcuno di voi può aiutare Anto, io tanto lo so che sono fregato, il problema è che dovevo dismettere, disconnettermi col Konamid da lì, siccome lì è rimasto in memoria a Konami che sta lì, il mio cellulare è distrutto, si è autodistrutto, deflagrato proprio, quindi non so come fare ma magari qualcuno può aiutare Anto, io subito dopo questo video, dopo averlo caricato, provo a cercare qualche video per il passaggio dei dati e te lo linko, ma se c'è qualcuno all'ascolto che può aiutare Anto, lo ringrazio. Ragazzi, per il momento è tutto, io vi do appuntamento questa sera con Napoli Inter sui generis, ve l'ho detto, è sui generis perché è un Napoli Inter, sì, in parte lui ha molti giocatori dell'Inter, io molti del Napoli, ma non è proprio quelle vere di squadre, ma è una partita interessante e poi dopo da domani ricominciamo il campionato in divisione 3. Grazie per l'attenzione, grazie a tutte per le domande, lasciate le domande già da ora o quando volete prima di martedì prossimo, un saluto a tutti e grazie, grazie a tutti, ciao.